Viscanthus, l'associazione di Viscanthus, l'associazione culturale Aretina che promuove la musica a partire dal canto al fianco dell'associazione Autismo Arezzo con il concerto di Santo Stefano nella chiesa di San Michele. Un evento nello spirito della solidarietà per il secondo anno consecutivo. Lo scorso anno infatti il concerto era stato realizzato in favore del movimento Shalom per il sostegno dei bambini bisognosi nel mondo. Quest'anno invece il ricavato della serata è andato all'associazione Autismo Arezzo che promuove progetti rivolti a favorire la riabilitazione e l'inclusione sociale nei soggetti con autismo. E' stata una serata dedicata interamente alla musica sacra alternando brani del tardo rinascimento primo barocco ad altri deutori e autrici contemporanei. Ospiti strumentisti d'onore, loboissa Aretino Nicola Patrussi e il duo di chitarre di Giorgio Albiani e Omar Zirulnik in rappresentanza dell'importante scuola di musica Aretina Dima. Aretina Dima